Mi sto facendo promotrice con un progetto che si chiama Bella Comunque all'interno della MIAS di appartenenza e parliamo quindi del Savonese, siamo in Liguria, per cercare attraverso un'azione di volontariato di poter creare un team di persone che aiutino le pazienti in terapia oncologica ad avere un supporto, quasi una coccola all'interno dell'ospedale, che è fatto attraverso dei percorsi alternativi a quelli chiaramente medici, quindi l'aiuto nello scegliere una parrucca in caso di alopecia post trattamento oppure banalmente un massaggio di riflessologia o un massaggio con oli essenziali per riprendersi un pochino più la considerazione di se stessa, la consapevolezza di se stessa. E' una cosa che secondo me ha una valenza veramente incredibile, in tutto ciò noi siamo supportati da Image che ci fornisce tutti i prodotti per poter trattare queste pazienti. Sono prodotti assolutamente naturali che non contengono sostanze cancerogene e ci dà anche chiaramente un supporto con delle persone che sono state formate presso le scuole di oncologia estetica e quindi delle estetiste assolutamente formate per trattare adeguatamente queste pazienti che hanno delle problematiche non solamente di aspetto estetico ma anche di cute e comunque di annessi come fragilità delle unghie o comunque allopecia.